Noi immettiamo nelle rete di Cosenza acqua per circa 800 litri al giorno a cittadino. Soltanto qualche giorno fa il commissario liquidatore della Sovical, Luigi Incarnato, offriva la propria valutazione sulle cause della penura d'acqua nella città di Cosenza. Il clima di collaborazione tra la Società regionale di gestione delle risorse idriche e Palazzo dei Bruzzi si è però bruscamente interrotto nella giornata di ieri, quando una nota del gruppo consigliare del PD mal digerita da Mario Occhiuto ha ufficialmente aperto la guerra dell'acqua, alimentata anche dalle ipotesi di presunti sabotaggi nel veicolare il prezioso liquido attraverso bypass e saracinesche chiuse o aperte a seconda della convenienza politica. Secondo i Democrat, la carenza idrica nelle case dei cittadini è dovuta alla cattiva distribuzione nella rete idrica comunale, dove una parte della fornitura garantita dalla Sovical si disperderebbe tra perdite e allacci abusivi edifici pubblici in cui bagni guasti determinerebbero sprechi a carattere continuativo. La società regionale ha inoltre reso noto di aver assistito il Comune nella riparazione di 20 perdite nella settimana di Capodanno, recuperando almeno 40 litri al secondo. Numeri e cifre che non confortano chi si ritrova con i rubinetti a secco. Salvatore Bruno per la Cineus 24.